Mentre sembra che Fedez stia gradualmente migliorando secondo le recenti voci che circolano su di lui, Chiara Ferragni ha voluto esprimere la sua gratitudine i fan attraverso un messaggio su X, precedentemente noto come Twitter. Ieri la celebre imprenditrice digitale è stata vista fuori dall'ospedale, fate bene e fratelli di Milano in compagnia dei suoi suoceri e del piccolo Leone. Durante questa visita ha scelto di non rispondere alle domande dei giornalisti presenti come riportato dall'Ansa. Era accompagnata dalla sua guardia del corpo e dopo aver lasciato l'ospedale dove attualmente il marito è ricoverato ha preferito mantenere un basso profilo. Nelle ultime ore ha interrotto il suo silenzio sui social media per ringraziare i suoi sostenitori scrivendo Leggo i vostri messaggi e vi sono grata Con queste parole Chiara Ferragni ha scelto di condividere con i suoi seguaci la difficile situazione che sta affrontando insieme a suo marito.